Ok, eh sì. Ciao Marcello. Dove siamo qui allora? Siamo a Torre dell'Orsa, abbiamo preso un bel caffè e un dolcetto. E adesso continuiamo verso sud, ma abbiamo sempre in testa orizzonti più lontani. Esatto, il Covid-19, come sapete, quest'anno mi ha impedito di realizzare il mio sogno, che Marcello ha realizzato lui nel 2011, è un pioniere di questo viaggio. Quando l'ha realizzato lui la Siberia era un gravel road, non era asfaltata come adesso. Diciamo che non avevano finito di completare la strada. Quanti chilometri? Dopo Città o prima? No, l'avevano in gran parte fatta, era rimasto qualche centinaio di chilometri ancora non asfaltata. Però per fortuna l'avevano appena completata. Nel Farist o ancora in Siberia? Nel Farist, prima di Avarosk, è stato l'ultimo tratto asfaltato dopo Città e prima di Avarosk. E in quel tratto c'era ancora qualche centinaio di chilometri, però il grosso l'avevano fatto. Infatti io sono partito appena ho avuto la ragionevole certezza che il grosso della strada era completa. Non me ne vado a cercare. La parte più difficoltosa del viaggio è stata quando sei caduto a Novosibirsk? La parte che mi ha messo un po' in difficoltà è stata quando sono caduto lì in Siberia, perché obiettivamente la moto era molto mal ridotta. E sapendo di dove fare la maggior parte del viaggio in quelle condizioni, un po' di esitazione l'ho avuta. Però poi quando ho visto che la moto camminava, ho preso lì e ho buttato via i pezzi che non servivano. Sei stato anche fortunato che c'era il tuo amico. Sì, che mi ha indirizzato sul meccanico che ha potuto fare una parte. Anche io ho molti contatti perché l'anno scorso, da settembre, da quando sono tornato dagli Stati Uniti, ho iniziato a lavorare su questo progetto. Quindi mi sono messo in contatto tramite social network e mi sono sembrati molto amichevoli siberiani. Addirittura un ragazzo, che è papà di famiglia anche lui, però più di una mia età, mi ha mandato la mappa della Siberia, tutta scritta in cirillico e le calamite di Tumen, non so se pronuncio bene. Tumen. Tumen. Sì. Con una calamita di queste è un pozzo di petrolio, perché lì immagino che siano veramente tanti. Molto amichevoli. Niente. Mi ricordo che a Vladivostoc dormi presso un biker club locale che mi accolse. Ti ricordi come si chiamava? Eh no, ora non me lo ricordo, ma forse li ho citati. Ma avevano anche moto custom. Eh sì, avevano moto custom ed era sì a Vladivostoc. Perché non so se hai seguito Witz, no? Sì. Lui ha fatto invernale. Lui ha avuto un problema poi al mono, l'amortizzatore a 200 km da Vladivostoc. E è andato proprio un membro di un club biker. Sì, gli è andato incontro. Non mi ricordo bene il nome, non vorrei dire una cavolata, Iron Tiger, qualcosa del genere. Che ha postato il video. Esatto. Si vede lui in macchina che si avvicina a questo pazzo di tagliare in moto. Esatto. Che lo scortava, esatto. Andando sul gaccio, sì. Sì, perché è stato aiutato da Dima, che è un moto viaggiatore che abbiamo incontrato entrambi a Verona. Difatti quando arrivai a Verona non conoscevo Witz. Iniziai a parlare con un fotografo americano che era con questo viaggiatore russo, che lui organizza anche a Mosca un evento. E mi disse, gli parlai del mio progetto e mi disse, ah ma qui c'è un ragazzo che ci fa arrivare a 3-5 minuti e lui parte adesso. E mi dico, come parte adesso? Ci fa sì, parte adesso. E niente, qui ho portato il libro perché ci terrei che tu mi scrivessi una dedica, innanzitutto perché è il primo giorno che ci incontriamo effettivamente. E poi se ti va, un consiglio. A voce o sul libro? No, no, sul libro, un consiglio, un tips, come dicono gli americani, sul viaggio se mai lo farò. Un consiglio veloce. Se mai lo farò, o anche, che ne so, non ti dimenticare di vedere questo, oppure stai attento a quello, quello che ti viene in mente. Sì, 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 ho già in mente qualcosa. Non avevo due. Fabrizio Fabrirock. Fabrirock, il mio nome d'arte. In Siberia, in tenda, attento agli orsi. Anche a quelle a due gambe? Eh, sì. Non ho mai avuto problemi, però io ogni sera trovavo un posto sicuro per dormire. Ma mi sono ispirato molto anche nel mio viaggio a Caponord a Giorata Nencini. Lui nel suo primo viaggio del giro del mondo, il primo viaggio che fece nel 2005, mi pare. Dormì proprio in tenda per tutta la Siberia. Sì, allora, Jonathan è un tipo particolare. Ha ritmi suoi e quindi ovviamente il viaggio cambia, perché in base al ritmo cambia il tipo di viaggio. Però ogni tanto fate le cazzate. Qualcuna la riconosce, per fortuna la vuole raccontare, come quando in Nepal dormì nella boscaglia in tenda e poi quando si svegliò scoprì che era in un parco naturale dove era pieno di tigri. Ah, non lo sapevo questo. Eh, e glielo dissero dopo e lui dopo si rese conto del rischio che aveva corso. Certo, certe cose se le racconti va bene, però è meglio evitarle. Magari era molto giovane all'epoca. No, no, l'ha fatto dopo il giro del mondo. Se usi la tenda e la puoi usare in certe condizioni. E ho viaggiato con alcuni che dormivano in tenda in Siberia, stando ovviamente attenti, quindi uscendo dalla strada subito dopo il tramonto, montano dall'alba. Però ci sono delle zone veramente spaziali. Ma in Russia, sempre tramite i contatti che ho avuto, via social mi hanno detto che ci sono proprio questi punti dove i biker vengono ospitati. Quindi se tu ti metti in contatto con... Ci sono alcuni club locali. Io ho contattato soltanto quello di Vladivostok perché comunque non volevo vincoli lungo il... Esatto, il problema è che appunto se tu, almeno dal mio punto di vista, se tu vuoi dormire in questi posti poi non sei libero come se vai per conto tuo. Quindi se potresti essere anche rallentato, tra virgolette, è questo che valuterò perché chiaramente... Quindi va bene per un posto terminale come può essere per esempio Vladivostok, dove pensi di fermarti, non tagliando. Perché per esempio un viaggio così lungo, un cambio gomme, anche oltre il semplice tagliando magari è prevedibile. Io ne feci uno e mi sbagliarono le gomme. Però se sei di passaggio devi stare attento, se ti vincola... Esatto, esatto. A meno che non hai un'infinità di tempo, ma in quel caso ripeto cambio gomme. Non è il mio caso purtroppo. Come nel caso di Jonathan. Simpaticissimo, però non puoi seguire quei ritmi se hai i nostri tempi. Gente, è normale che lavora. E cosa volevo dire? No, mi ritrovo molto nel tuo modo di viaggiare perché assolutamente io non farei mai un viaggio del genere intercontinentale o un grande progetto in compagnia di altri, se non la mia moto. Quindi mi trovo anche nel... Tu dici sempre la meta alla strada, hai scritto anche il libro, no? Sì, il primo. Esatto. Perché appunto condivido questo tuo modo di viaggiare perché non tutti hanno il tempo di... Se no saremo tutti Emilio Scotto. Io sono una persona normale. Esatto. Con un lavoro normale, con una famiglia normale. Ho il vantaggio di potermi prendere le fiere quando voglio, ed è una gran comodità, è una gran fortuna in Italia, e di avere un lavoro sicuro. Ho anche il vantaggio che la mia famiglia mi sopporta, e anche se Brontone giustamente sopporta le mie assenze, perché in quel caso o sei solo e non hai vincoli familiari di alcun genere, o vivi in vendita, o hai un lavoro che abbandoni e poi magari lo riprendi alla fine del viaggio, ma sei a un lavoro. Esatto. Non puoi prendere e mollare. Infatti chi vede da distante, cioè chi non lo conosce, pensa sempre o che sei mantenuto, o che non lavori. Eh ma quello è pieno di soldi. Invece poi la realtà è ben diversa. Allora, alcuni a volte criticano il viaggio veloce, relativamente veloce, perché anche per dire il viaggio che hai fatto a Caponord non si può definire veloce in quel senso, però è veloce per altre cose. Io vengo a volte criticato perché viaggio veloce. Ci sono due cose da chiarire. Intanto viaggiare veloce non vuol dire non vedere le cose. Perché tu puoi anche fare un viaggio di sette anni in Tibet, per citare un film famoso, ma potrebbe anche non bastare per conoscere quella zona. Puoi attraversare in sette giorni e vedere e capire più cose di qualcuno che distrattamente lo fa in sette settimane. Ma poi soprattutto a me piace viaggiare veloce perché mi piace vedere l'orizzonte che cambia velocemente, spostarmi da un paese all'altro. Il che non vuol dire che non sto attento a quello che vedo e a quello che mi studio prima. Ma se hai un tempo relativamente limitato, che fai? Rinuncia al viaggio soltanto perché devi vedere tutto quello che c'è tra te e la metafinale? Esatto. Tanto non conosceremo mai tutto il mondo approfonditamente. Sì, sì, ma anche io la penso come te. Guarda, io ho fatto tra costo costo negli Stati Uniti in circa 25 giorni. E quando lo dico, la gente mi dice, ma 25 giorni come hai fatto? A parte che quelli che me lo dicono non l'hanno mai fatto effettivamente. Però si immaginano di dovere... Quando poi tu vai in certe città, come ne cito una, Nashville, tu Nashville in un giorno hai già visto fin troppo, nel senso che è veramente piccola. Però la gente non sa che... Però cogli l'atmosfera della città. Esatto. L'hai vissuta? Ma poi viaggio... Sei arrivato con la tua moto? Viaggio. Viaggio innanzitutto perché sono curioso, sono una persona curiosa. Poi viaggio perché... La cosa che... Poi infatti voglio anche sapere il tuo punto di vista. Viaggio perché mi piace capire gli spazi. Cioè quando ho iniziato i motoviaggi, la cosa che mi ha dato più gratificazione è capire gli spazi e i territori. La sensazione della distanza. Esatto. Prima di iniziare i motoviaggi, che ne so, pensare al cost to cost in America, non avevo idea di quanto ci potesse volere. È lo stesso, che ne so, per fare Italia e Giappone, che adesso non l'ho ancora fatto, oppure il viaggio a Caponord. Invece adesso ho proprio un'idea e posso anche immaginare ancora prima di averlo fatto quanto ci può voler percorrere. Perché hai un'idea dello spazio. Sì. Infatti mi sono reso conto che il mondo è piccolo. Mi sono reso conto che il mondo è davvero piccolo. Affrontarlo in moto è una percezione santa. E quindi volevo sapere appunto come è cambiato il tuo punto di vista sotto questo aspetto con i motoviaggi, prima e dopo i motoviaggi, soprattutto quelli intercontinentali. Il punto di stacco deciso è stato appunto il primo viaggio decisamente al di fuori dell'Europa. In Mongolia. Quello in Mongolia. Perché prima della Mongolia avevo viaggiato quasi esclusivamente in Europa, facendo soltanto un po' di Nord Africa, tipo Messia e cose del genere. e nel momento in cui avevo praticamente completato tutta l'Europa, avevo preso la decisione di andare oltre, si pone il dubbio del che cosa troverò oltre l'Europa. E lì devi essere pronto ad affrontare, perché di fuori del Nord America non ci sono quei servizi per le strade, ad affrontare l'imprevisto, ad affrontare la mancanza di stazioni di servizio dove trovi tutto, dal mangiare all'andare in bagno o altro, stazioni, punti di rifornimento di assistenza meccanica, strade in buone condizioni, perché un conto è le buche che abbiamo qui. Situazione pessima in certi punti. Ma parliamo di un certo tipo di strade. Dall'altra parte non devi contare le buche, ma i tratti di aspetto buono. E quindi cambia l'area testa stradale, cambia l'assistenza, cambia a chi rivolgerti in caso di bisogno, cambia l'assistenza medica, meccanica, cambia tutto. Cambia la burocrazia, perché un viaggio in genere significa prepararti prima, prepararti per i visti. Non puoi arrivare, per dire la cosa più banale, al confine con la Russia e scoprire che il visto lo devi chiedere alla nuova basciata e tornare indietro. O peggio ancora, al confine mongolo. Quindi cambia tutto. Ecco, nel momento in cui si è pronti ad affrontare questo, e poi ci si preparano un calmo, perché alcune cose, se non hai un tempo infinito, le devi preparare prima, cambia il modo di viaggiare, però a quel punto ti senti di non avere più limiti. E come tu, molto interessante, nell'ultimo viaggio a Caponord, hai deciso di fare tutto in tenda, perché volevi farlo in quel mondo. Non eri costretto, ma volevi farlo. E poi ti sei reso conto che lo potevi fare, nel momento in cui decidi di andare fuori dell'Europa, sai che devi adattarti a certe situazioni diverse. Però, una volta che hai deciso di farlo e ti sei preparato, quando l'hai fatto, apprezzi la bellezza di viaggiare in un moto diverso, in un mondo diverso, con orizzonti diversi. Poi ti volevo chiedere, una cosa, a me è capitato sulla moto di commuovermi, proprio mi sono scese le lacrime, no? Tipo uno di questi momenti è stato il coast to coast Florida-Washington, quando ho visto il cartello che cambiava il fuso orario, l'ultimo fuso orario, e c'era scritto entering... Andando verso ovest, arrivare all'ultimo fuso, Verso la costa pacifica, entering pacifiche zone, c'era scritto. E proprio in quel momento mi sono proprio scese le lacrime di... Perché ho ripensato alla Florida, a tutta la gente, proprio quel cartello mi ha fatto... È stata la prima volta che mi sono scese le lacrime sulla moto, non solo uno che si può muovere. Volevo sapere se a te mi è capitato... Qualcosa del genere mi è successo alla fine del viaggio in America, che ho fatto da sud al nord, quindi dalla Patagonia al nord dell'Alaska. Ero in... Stavo uscendo... Ero uscito dagli Stati Uniti, stavo facendo la costa pacifica del Canada, e stavo percorrendo... Ora non mi ricordo lo stato esatto, se era lo stato del Canada sul Pacifico, e stavo andando verso l'interno, verso lo Yukon. C'è un tratto molto bello di strada che parte dall'oceano, percorre un fiordo e risale per le montagne rocciose. E in quel momento, mentre cominciavo a risalire, vedevo di nuovo le montagne rocciose e tutto il loro splendore, le montagne rocciose canadesi, quindi con la neve già a mille metri e le foreste selvagge e il contrasto tra i boschi e il mare sotto di me, il fiordo... Ti siamo inserato lì? Lì veramente mi sono commosso e ho pensato alla bellezza della nostra terra, della natura, allo stato puro, come il Canada occidentale, che è veramente spettacolare. E lì mi sono veramente commosso. Molto interessante. C'era veramente un punto magnifico che preludeva a migliaia di chilometri fatti nella natura selvaggia, come può essere quella della Siberia, ma ancora più bella, perché il bello della Siberia è la vastità, la silenziosità, la scarsezza di abitanti, le foreste. Però uno dei posti più belli che abbia visto sono le foreste, le montagne rocciose, il Canada occidentale, che sono veramente spettacoli. E invece gli Stati Uniti cosa ti hanno lasciato? Gli Stati Uniti relativamente poco, perché è bello, è bellissimo. È tutto semplice però. Sì, però soprattutto dopo aver fatto l'America Latina era molto semplice, era anche troppo semplice. È bellissimo da fare, è un viaggio da fare assolutamente, però dopo che hai sudato ogni metro per passare dall'America meridionale e poi l'America centrale e ti guadagnate le frontiere, le strade, il cibo, la notte ogni volta per trovare un posto sicuro è relativamente comodo. Quando arrivi negli Stati Uniti paghi e è tutto. Cioè c'è poco da fare. Paghi e è tutto. Hai benzina, hai mangiare, hai ingresso ai parchi nazionali, hai la guida se vuoi la guida. Però... Sei stato a White Sand National Park in New Mexico? Sì, White Sand. Ah, devo anche darti... Sono passato proprio di là e ne stavo per dire. Però comunque ci sono dei posti spettacolari che anche lì ti commuovi per la bellezza. uno è White Sand e me lo ricorderò sempre e l'altro è la Monument Valley. Ti devo lasciare anche me. La Monument Valley è uno di quei posti che veramente quando ci stai dentro ti sembra che da dietro un sasso esca fuori una diligenza seguita dagli indiani. Cioè ti sembra proprio di stare in quelle cose che fin da ragazzo... ti lascio i miei adesivi. Grazie. Uno è il White Sand. Ah, eccola dove l'hai presa. Sì, il White Sand. E poi ti la... Questo è iconico del mio viaggio... E questo della Monument Valley è l'altra spettacolare, veramente. E poi il Magnete... Guarda caso, i due posti che ho citato. Iconico perché è la Lituania perché è il mio paese preferito d'Europa quindi l'ho preso adesso in questo viaggio quindi è un po' iconico. Questa è la statua che sta vicino a quel castello? Sì, sì, sì. Che non mi ricordo il nome. Vaitatus. Dove hai fatto quella bella tronata. Esatto. Grazie. A Conas. Dove c'è il castello che si chiama Cauno Pilis. White Sand e Monument Valley. I due posti che mi hanno impressionato di più nell'istaglio. Sì, il Monument Valley è veramente... E poi Los Angeles. Infatti, ecco, lui mi piacerebbe dormire con la tenda, Monument Valley. Eh sì. Penso che sia vietatissimo anche lì. No. No? Si può fare perché è il Parco Nazionale. E riserva il Navaglio, no? Si può, però hanno... hanno dormito anche alcuni miei amici. Forse in alcune zone? So che si può lì, comunque. Che generalmente nei parchi nazionali è regolamentato. Sì, questo è la White Sand. Ho vari amici americani tra cui c'è un ragazzo che gira con una FXR e un Harley Davidson nel 95. E lui... Anche a lui mi sono ispirato anche se è molto giovane però ha veramente lo spirito del bike. Lui dorme con la tenda in qualsiasi posto. L'anno scorso? Questo è 2019, sì. Il costo coste da Los Angeles a New York. Ma era la stessa moto? No, questa è una moto a noleggio. Ah, questa era... Per 25 giorni spedire la moto non ha senso. Sì, sì, ma l'avevi già comprata questa? Perché questa è... È nuova. No, no, questa l'ho presa subito dopo, a ottobre. Avevo un altro modello touring. Quindi questo è il modello 2019? 2020. Ah, a ottobre era già il modello 2020? Sì. Sì, 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 perché ho visto a fortissimi chilometri. Sì, l'Area Davidson le presenta già in ottobre. Sì, 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 non quest'anno perché per colpa del covid sei partito con 4 o 5 mila chilometri? Con 3 mila chilometri. Ne ho 22 mila. Ecco perché erano i primi tagliati. Esatto. Quindi sei partito con le gomme originali? Sì, e sono ancora quelle. Ah, ce l'hai fatta? Sì, sì, sì. Guarda, e... Non resta ai 18 mila, 19? Sto a 22 mila. Ah, buono, buono. A fine di via... Quando tornerò alle due sono 23. Sto tagliando e ci stai in un viaggio lungo. Ma una delle scocciature più grosse soprattutto per la mia moto è il cambiare le gomme. Perché quelle non le trovi facilmente. Ho capito. E comunque è un'operazione un po' delicata da fare ma soprattutto non le trovi facilmente. Io posso contare praticamente solo un modello di gomme. E quindi una delle programmazioni più attente che devo fare quando un viaggio è veramente lungo è il cambio gomme. Nel viaggio in America ne ho dovuti fare due. E in Cile uno... Adesso volevo fare tutto l'inverno con quelle sperando di poter partire per il Giappone. Io ci spero sempre. La speranza è l'ultima glida. Perché stando oltre i 20 mila secondo me non ti manca molto. Guarda... Io con la nuova arrivo appena a 20 mila. Io sono arrivato con un modello touring a 30 mila chilometri. Può darsi che viste le caratteristiche della moto e delle gomme che l'hanno fatta... Chiaramente sul bagnato devi ricordarti che non hai le gomme nuove. Oltretutto l'Arleigh Davidson sul bagnato. Tutti quelli che compri l'Arleigh Davidson sui fiery forum dopo circa un mese scrivono depressi che la moto gli è scappato dietro. Ah, magari appena non... Poi chiedono quando va accelerato sul bagnato. Io dico Welcome to the family. Benvenuto in famiglia perché sul bagnato ancora più piano ancora più prudente. Soprattutto sul bagnato. Sul bagnato bicilindrico con quel peso scappa dietro. Scappa dietro. Allora, la vecchia Golden aveva anche dei problemi sul bagnato. Devo dire che l'attuale è migliorata però non è il suo forte perché comunque il peso è quello. Però la nuova è migliorata tanto. Adesso i modelli 2020 di Electroglide hanno il controllo trazione ma quelli di prima non avevano neanche controllo trazione. Comunque bisogna sempre veramente io anche in Norvegia sono andato veramente molto piano. Quando sono quando ho preso il ferry che portava all'Atlantic Ocean Road sono sceso dal ferry e è venuto giù tutto quello che poteva venire. Io penso di aver impiegato un'ora e mezza a fare 60 km facevo i 20 all'ora. Poi magari non si è preparato. Non facciamo molto tardi che il sole tramontare 6.25 e abbiamo poco più. Questa è l'ultima mappa dell'ultimo viaggio non l'ho mai sistemata è rimasta mezza capitata il viaggio di giro del mondo è rimasta con mezza mappa mondo caduta mentre sul pauletto posteriore si vede l'ultimo grande viaggio di questa la Panamericana che è stata il viaggio ah l'ultimo è stata la Panamericana ed era il 2017 46.000 km di tre messe dalla terra del fuoco al nord dell'Alaska 46.000 km 90 giorni è il viaggio che ha fatto la mia di tutti a giro quindi i chilometri esatti mi dicevi prima 995.000 e 200 puoi inquadrarlo perché è quello meccanico quindi si vede anche quello quindi il 2021 vorresti andare negli Emirati Arabi non faccio programmi per l'anno prossimo sì no chiaro sicuramente un viaggio del genere va preparato per bene e mi seccherebbe molto dopo avessimi sbattuto tra viste e permessi l'attraversamento dell'Iraq tra l'altro sia pure per pochi chilometri quindi non una cosa da poco dove rinunciare quindi io non programmo per l'anno prossimo l'anno prossimo però diciamo tre settimane anche al limite un mese per farmi il giro della Sardegna e magari però il prossimo viaggio quando sarà è quello di Emirati Arabi quindi anche Dubai Emirati Arabi attraversando l'Arabia Saudita quindi tutto via terra come chilometri Iraq Kuwait Arabia Saudita andata e ritorno andata e ritorno quindi più o meno saranno 15.000 km andata e ritorno no penso 12.000 non di più si potrebbe anche fare o l'andata e ritorno passare dall'Iran e quindi prendere il traghetto da bandare a Bars in modo da evitare di fare andata e ritorno dall'Iran perché l'Iran c'è il problema del carnet però poi l'Iran è molto tranquillo da attraversare però anche lì si deve vedere la politica come butto io sono pessimista per l'anno prossimo cioè rischiamo di avere dei blocchi a scacchiera anche l'anno prossimo o magari che si libera all'ultimo momento ma uno all'ultimo momento può decidere di andare a Caponordo un po' decide di fare l'Italia oppure deve accettare il rischio di preparare tutto e che poi salta io per il viaggio Italia-Giappone ho la buona notizia che c'è di nuovo il traghetto che non è ancora operativo però lo stanno per l'anno prossimo è merce per ora è solo merce chiaramente perché essendoci il coronavirus però una volta che sarà finita la pandemia la moto la trattano come merce non la mettevi tu sul traghetto quindi cambia un po' però mi hanno detto che comunque si comportavano bene perché la mia paura era lasciare la moto e la compagnia era russo o coreana? o giapponese? praticamente la Corea ha rilevato la nave la Eastern Dream no? si chiamava che era russa non mi ricordo era russa era l'equipaggio russo nave giapponese coreana se non mi sbaglio comunque adesso è tutto coreano tutto coreano sì quindi 470 kg e la cilindrata? 1520 1520 infatti quando mi chiedono dico no questa è la piccola perché l'altra è il 1832 questo è il 116 pollici com'è? 1850 114 sono più o meno simili e invece la nuova quanto pesa? 30 kg in meno e ma soprattutto non ci ho messo 60 kg di accessori ma sono 12 questi i diversivi del forum uno trasparente ve lo bianco l'altro nero grazie Marcello motoviaggiatori punto net poi l'ultimo libro che ho scritto è quello del giro del mondo in attesa di scrivere quello sull'America la cartolina del viaggio e in attesa di scrivere quello sull'Africa che ho cominciato comunque la cartolina del viaggio tutti i viaggi sono raccontati sia sul sito internet del tuo sito dei motoviaggiatori e poi sul mio sito internet ci sono l'elenco dei 5 libri dai viaggi in Europa al giro del mondo passando da Mongolia a Giappone con tutte le foto anche sul sito internet e anche sul forum postano sul sito internet oppure c'è il link al forum ciao